Il mio cuore sta esplodendo, il mio cuore è un'esplosione ora. Grazie per tutti, siamo bellissimi. Si è dovuto attendere l'alba in Italia per seguire gli aggiornamenti della serata di premiazione, grazie alle dirette Facebook realizzate da Gianni Petrizzo e Raffaella Giaccio, inviati al festival in un'iniziativa di promozione territoriale, sostenuta anche dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e a Convergenze S.p.A. Sono state giornate intense, ricche di incontri, di apprezzamenti, per un'opera scritta da Giovanni Laurito e realizzata grazie alla partecipazione dell'intera comunità di Cannalonga. Un film, il maestro più margherita, che ha saputo divertire e commuovere, che ha mostrato la faccia più bella e più autentica di quel Cilento che sa conquistare i cuori anche oltreoceano. Sin dal pomeriggio i rumors facevano registrare un clima molto positivo per la pellicola italiana in concorso e, a notte inoltrata, il verdetto finale. Il progetto, fortemente voluto dal parroco di Cannalonga Don Luigi Rossi, conferma la bontà dell'intuizione con una comunità che ha lavorato all'unisono, professionisti come Gianni Petrizzo e Giovanni Laurito che hanno saputo trasferire tutto il loro talento, giovani attori e comparse che si sono lanciati in un'avventura insolita, ma che, come i risultati confermano, ha raggiunto per tutti livelli di eccellenza. Grandi complimenti in particolare per i protagonisti Antonio Tomeo e Antonio Vita e per i giovanissimi attori che hanno partecipato al film. Dietro le quinte, uno straordinario lavoro è quello fatto da Film Studio e da tutta la squadra, dal montaggio di Andre Giaccio a Daniele Romualdi, Raffaella Giaccio, Mattia Landi, Giovanni D'Agosto, Vincenzo Procida, Fedice De Vita, Luigi Antuoni, Giuseppe Cavallo, Melina Di Nardo e tanti altri. Ora il film è pronto per la distribuzione su tutto il territorio nazionale e per partecipare con fiducia ed entusiasmo agli altri concorsi cinematografici internazionali che si svolgeranno nei prossimi mesi.